Benvenuti in questo nuovo video, io questo video di Fortnite non lo volevo fare, ma prima o poi tocca farlo Io non ne voglio fare neanche uno, perché dici così Torniamo a proteggere i boss, e quest'oggi proteggiamo il peggiore di tutti Quello che è veramente difficile da proteggere, ovvero Mida, Agency, Morte, Tanterec Però sono felice, perché è il più bello del mondo Fere è fangaro È innamorata di Mida Bello Io l'ho detto all'inizio del post battaglio, lo ripeto Sì, Mida è bellissimo, e quindi sono felice di proteggerlo Raga, andiamo, vediamo cosa succede 10.9 tentativi Pieno a zeppo di gente, Marci riesce a prenderla con l'arma, perché No Aiuto Ho dato delle piccolate Ho fatto una kill No, non è capito, si è buttato giù quello col pompa Sì, ed è morto Ma perché? No, non ci credo, raga Vabbè, vabbè Sopravviviamo, ragazzi, ce la possiamo fare Sopravviviamo Forza, forza, forza Dove è Mida? Vorrei vedere, ma un attimino che devo fare degli scagnozzi C'è gente con l'elicottero, un casino C'è gente che ha l'RPG, raga Raga, è un disastro qua Raga, è pieno di gente Secondo me Mida è già bello che è andato E a uno di vita entrambi, Marci Bravo Bravissimi Mi serve di essere animato No Porca miseria, non ho niente Allora, Mida lo sento ancora, sto ancora parlando Raga, niente Non ho nulla Mida qui da noi Ho tirato solo due granate E via Ma perché è triggerato? Ok, ci ho lasciato Ok Allora, mi curo Ho fatto fare quello con l'RPG, raga Che mi è distrutto Raga, Mida è qua da noi È triggeratissimo Sì, e io non ho Troppa gente sta arrabbiando Troppa gente sta arrabbiando Li tiro triggerate così si confonde Mamma mia, è un pazzo Abbiamo bisogno di trasformarci Non c'è molta gente viva ormai, eh No, no, penso di no È pochino, Steph Io sono morta fuori la vera di gente Oh Ok Vado a cambiarmi, vado a cambiarmi Vado vicino subito a Mida Poi non lo so Magari qualcuno si sposta Chi lo sta, non lo so Ok, la cardifera Ci abbiamo Mi trasformo Ti l'ho preso Grazie Vai subito, vai subito su Oh mamma, ragazzi Non è male Ma lo frenetico Ok, mi dai lì Se Mida viene qua Aspetto, lo buttiamo giù No Che male che fa Ma non puoi essere così Ma mi sta pushando Vedi qui Sotto, sotto, sotto Chiudi Questo è matto Dobbiamo trasformarci E sta di era larga Porca miseria Il problema è che sta morendo Marche Perché non possiamo non aiutarlo Marco, tu vedi gente? Eh, si sta faitando Questo mi ha affanacchillato Ma non è quello che mi ha ucciso Questo ha ucciso Quello che mi ha ucciso E poi mi ha affanacchillato Quindi penso Che fosse l'ultimo Vai ad aiutare Marche Sto io vicino a Mida Assolutamente Resist Marco li senti? È un'altra gente Ve l'ho detto Ora che è pieno di gente Sono uccide dal tubo Sono sotto Sono da me Uno morto? Trovissimo arrivo Eh, sono tre Ma non è possibile Ancora Ma poi Tanno tra loro Sono due team No ragazzi Meno sciolto Ma non è successo? Ragazzi È basso È mosso Faitano tra loro È fattibile Ok ce n'è uno Allora Sì Io ho preso una kill Quindi un team è morto Occhio a quelli Copriti Troppe guardi Anche Mida Non fa È scappato È resta steppa Allora Il resto steppa No Che paura Mi è sceso un colpo E qua è sotto i te Eccolo Arriva Soprattutto a testa Lo vedi? Dietro di te Ho troppo Ho troppo Ho capito Ce la puoi fare? Un colpo Non ho Non ho mazzo Ragazzi Non ha vita Ok La guardia No però Sta lì sotto Tirati lo scendino Occhio alla tua destra Arriva No Prendi la mia carte La mia carte è lì Ragazzi Mida sta sparando a qualcuno Marci Tirati l'altro scendino Vedi se c'è un medikit Devi essere velocissimo Accidenti raga Sta sparando a qualcuno Vai a trasformarti E poi ti tiri i medikit Occhio Trasformato È morto No 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 Ok lancerò di quello Eh sono io con il melute Prendi la mia carte Direti i medikit Chi è che spacca aiuto Ma non si sa È troppa gente Esatto Traguardi e tutti E vivo e vivo ha parlato Sta sparando Parando dove No è impossibile Non può essere lui È la casa Thompson Esatto E per ora Vai 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 No ha ucciso qualcuno Rianimaci Vado a restarvi Ragazzi Vai lì dietro Però il camioncino Che arrivano con l'elicottero Così Lascia giù i cildini Marci anche E non posso farlo Nel mentre Adesso lo faccio Prendi Cosa sta accadendo Io c'ho due kill Non so quanto Ve ne abbiate Io due Porca miseria Raga Adesso arriva Altre gente Che è finita Perché non rianimo Teffo Eccomi Perché ci vuole tempo Vieni qua Stef Cildini È veloce Però butta Raga Non vedo Se ci vuoi mettere Sei mesi Fai tasso Adesso Sinistro Raga Non vedo Lo sento Però Asparta Ma E qua E qua Penso Però ci dobbiamo Trasformare C'è un disastro Aspettate che mi trasformo Non è possibile Raga Mila Non fa Eh lo so Si deve calmare Un attimino Ma non sento Sotto di me Ha giampata via Allora Mi sta camperando A me Mi da Sì Sta camperando Ma Va bene Sì ma sta camperando Il corpo di Mark Se io lo resto Perdo No Ma Ma Mi può La zero Ma questo è stato male Se guardi E stando male No Sono facendo fuori Mi do A me Ecco C4 Marche la faccio Ce la faccio Vai Un altro Ragazzi Mide ancora vivo Calmi Raga Ne ucciso Un altro Muori Marche la con te Vattene trasformati Vattene vattene C'è no La garanzia Marche Ti devi allontanata Mia Non puoi Sto salendo Senti Scali Eh però Ti si è rigirato Calmi Ho ucciso Un altro Sopra Però c'è Un altro Del team Vivo ancora Ragazzi Sto cercando Di equipaggiarmi Nel frattempo Perché non c'è Una ceppa Vuoi il tac Ragazzi Se qualcosa Nelle cose Cercare L'ultimo Mi sentrato Uno Che arrivava Nuotando Che stava arrivando A nuoto Ho capito Pure Sì Era Final kill No Non era Final kill Magari Ho finito Mida Accidenti Però Però parla Mi manca E qua Lo vedo Lo vedo E vivo E vivo Ragazzi Dai Però dovete Stare trasformati Perché questo laser È matto Lasciami con lo sparare A vendere in fondo Marci Marci tu hai uno spaz Eh sì Ok ok Lo vuoi? Se mi dà un tattico Te lo do Ma chi sta sparando adesso? Ancora Mark Sempre con te C'è un tattico Trasformati Poi rientra C'è tre volte Perché ci sparano Con un rpg Non so da dove C'è la con Mark Ha deciso che Mark Il suo nemico numero uno Anch'io sto cercando Di capire da dove Arrivano Da dove? Dalla costa Nord ovest Ok nord ovest Quindi questa parte Io non ho una raga L'alterato uno Sono lontano Ci pushano Non ho fatto cadere E qui da me Stiamo facendo fight Niente raga Non c'ho niente Cosa devo fare Se ho mai nulla Arrivano Elicottero Ucciso un altro raga E poi non so Cosa sto facendo oggi Il problema è che c'è un elicottero No ragazzi È il delirio È sceso È sotto i te Marci Sì Vabbè Festa Yuppi 40 Da dove è che sparano? Da sopra Fatto uno Marci Tirati qualcosa Non può esistere questo match No devo ricaricare È l'ultimo Fatto È l'ultimo Io non ne posso più Sono tutti all'agenzia Non è normale Stiamo al centro L'abbiamo salvata L'abbiamo salvata Mi deve arrivare Non è mai successo Non è possibile Sto match È il match Pubblico Che potevano fare Ragabo No io bo Datemi dei colpi Di pompa Vi scongiuro Mi ho due Aspetta Guarda Grazie E due No no C'è il Quello dorato C'è questo Quello dorato Il Allora Io adesso Mi equipaggio Mi è ancora vivo Qualcuna Medica Non lo so Secondo me Non è neanche più vivo Non lo so C'è lo sento Ragazzi Parabene Ne avete Ciao Marche Mi pare E fallo caricare Poi prendiamolo Allora mi cerco un posto Dove trasformarmi Ragazzi Sto sparando A me Ma già mi do Raga È un bestialito È un posto Peggiore Da proteggere Comunque Sì Più difficile Di questo Non c'è nulla Ragazzi Arriva qualcuno No ragazzi Ragazzi Sono morta Addio Non ho niente Non faccio il tempo Di equipaggiarmi Che arriva qualcuno E mi uccide Mi sono chiusa Nella cabina Raga Scappo dentro Cerco qualche arma Ho solo una pistola bianca Pensate voi Non ho colpito il pompa Vieni da mettere Do 100 Marci Sono qua Arrivo da te Arrivo da te Ho 61 Sono divino Pasciando Questo è matto No non è solo Craccato Craccato 14 bianco Quello in alto marco Eh non ho colpito il pompa Come faccio Ragazzi Ci fanno E prendere il postivo Arrivo Terra Non so Non ho fatto Era Era luogo Li colpi Ok Ti faccio le cure Ragazzi Stai tutta Quei gente Editare Mark C'è uno qua da me L'ho laserato Sta bassissimo Raga C'ho tipo Un inizio di vita Marciate C'è qualcuno Vero Ragazzi da sei Ragazzi Mi ha fatto Dove è che è E lo Ce l'ho Craccato Le doppie pistole I netball Muari Restate Il volo raga Dove avete ucciso Il tizio Ragazzi Non vedo Marci Sotto Ok Ok Ragazzi Ci sono 17 Player vivi Non siamo mai Potuti uscire A mezzo Secondo D'agenzia Ma tu Mi racconti L'abbiamo Seppo A me ne segna 16 Anche a me 16 Non so Quante Inabbiate In realtà Io ne ho 5 Guarda se i colpi De ripiti Da darmi Ragazzi Tutto Ciò Mi De Ancora Vivo Ma davvero A farci Vedere Guardatelo Nel balconcino E vivo Lasciamolo Vivo A sto punto Lasciamolo Vivo Da Lasciamolo Vivo Meglio Per l'onore Oh L'abbiamo Protetto Dico Io Porca Miseria Andiamo Verso La Sifra Dai Mamma Ma cosa Mi ha fatto Raga La voce Si sente Quindi Non voglio Sentire Nulla Come Vado Ma io L'ho visto Eh Lo so Ma da me Non l'hanno visto Però lo sentono Dai Ho sentito La voce Va bene Ragazzi Ho visto Degli alberi Sparire Qui di fronte Quindi proprio Di fronte A me Aspettate Che mi Avvicino Ma qualcuno Voi ha tantissimi Mazze Che proprio 300 300 Eh Ce ne puoi dare Un po' Io ne ho 60 No ragazzi Totali Allora Raga I player Sono qua Teppo Manchiamo Arrivo 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 Aspetta Mi serve Una mano Li vedo Materiali Crackato Uno Io C'ho niente Vado E spar Basta Orca miseria Bot Ok Meglio Orca miseria Basta Non è posto Più Free kill Raga I 15 Che abbiamo 16 Che abbiamo Fatto E' Tutti Veri C'è Le gran Bot No No Quelli Non tutti I veri Pari Lasciarmi I mazzi Di questi Matti Che io Sto 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 Cercando Un Fucile A pompa Guarda Avete Vita Eh ci sono medikit Non c'è un fucile a pompa Marco buttami Tu spara bene Se c'è gli aria Eh no È vuoto Oh ci sono gli cilini Per caso Sì Quanti sono Ci sono Uno Raga ne ho uno Anche io Tenete Mi tiro un medikit In frattempo Magari vi coprite Per favore Che non voglio Buttare il match No no Io non ammazzo Grazie Che ti può servire per escape O altro Raga 10 player vivi 18 Raga Io le pistole di Deadpool Cioè Al posto del pompa C'è una R qua in giro Che posso prendere C'era una R blu Però Preso Io provisco il FAMAS Ok Ok Andiamo Andiamoci Raga sono Sclaratissimi Mio 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 Se riesci Lasciamola addosso Quando si ricarica Ok Andiamo Mamma mia Devo anche farmarmi Materiali Che non è che ne abbiamo Che match Raga Ma cosa abbiamo fatto Non so come sia possibile E per una volta Steph Non ho ucciso il boss È vero Per una volta L'abbiamo lasciato vivo Fino alla safe Adesso sarà morto Di vecchiaia Quindi noi ci siamo Raga player A nord est In mezzo ai campi Due almeno Stiamo attenti Raga Dove sei Vieni qua Marci Ragazzi ecco Siamo al centro Vi stavo per dire Marci Sparagli un po' Così non vengono Spara anche tu Se riesci Però arrivano Lanciano granate Di tutto Io non ci credo Che mi stessero guardando Sì Grazie Ok raga Sono vivo Ce la possiamo fare Vi restituisco Le granate Porca mitè Non c'ho niente Ma vallaggiate Sto giocando Lacerati Sono giocando Tra i jardini C'è una ruby sotto Sì abbiamo Un player Sotto di noi 130 ma son giù Raga io Non l'ho colpita Però Ferri di agita Eh non ho Pompà Lo sto dicendo Da due ore Porca miseria Che devo fa Ci sta raga Ci sta Ci sta Ragazzi Ho buttato tutto Io non so perché Mi stessi guardando Quel cavolo Quello lì era un vero maniaco No 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 Vero maniaco Tag Mamma mia Comunque il nostro L'abbiamo fatto Abbiamo finito la sfida Ciao Esatto Ciao